Ic? Ci sei? Devo ripassare più tardi? Ciao! Credevo che te ne fossi andato. Beh, certo, è così, certo, ma poi sono tornato con la colazione. Ho pensato che era il meno che potessi fare. Senti, non sapevo cosa prendi di solito, e allora, ecco, ho preso un caffè au lait, uno shakerato, un tè Earl Grey e una cosa con cinese nel titolo. Ehm, tè per me. Tè? Agli ordini! Ci speravo che dicessi così. Oddio, tu sei una persona mattiniera, vero? Beh, ecco, io dico sempre ai miei clienti, comincia la giornata come se avesse uno scopo. Bella giornata. Già. Bella ragazza. Grazie. Beh, io vado di qua. Ah, io vado di là. Fatti sentire. Qualche volta. Voglio dire al telefono. Ah, ah, sì. Sì. No, certo, certo. Bravo. Ciao. Oh, devo andare al lavoro. Ok. Ciao. Ci vediamo. Ci vediamo. Ci vediamo.